Ondata di furti e tentati furti in tutta la provincia di Salerno a partire dal capoluogo. Nella notte un tentato furto nella filiale della banca Sella. I banditi hanno infranto la vetrina dell'istituto di credito situato in piazza Antonella Russo nei press del parco Arbostella ma poi sono fuggiti via senza riuscire a portare via nulla. Un altro tentativo di furto si registra ai danni di un negozio che si occupa della vendita al dettaglio di prodotti di elettronica. Anche qui i ladri hanno danneggiato la vetrina ma non sono riusciti a portare via nulla. Sono riusciti invece a portare via dei tabacchi da una rivendita a Salerno. Hanno portato via anche dei grattevinci sul posto la polizia. E' ancora un furto in una gioielleria a Campigliano di San Giapriano di Picentino. Una banda di malviventi ha fatto razzia di tutta l'oggettistica del vasto showroom. Ma così furto poi ha scafati nello studio di un avvocato un bottino di circa 8.000 euro. Per quanto riguarda il Vallo di Diano controllo di serrati da parte dei carabinieri per monitorare il territorio anche in seguito al furto, alla tentata rapina all'ufficio postale di Sala Consilina e al colpo in banca ad Atena Lucana.